Noas in corso 11 del mese marzo del 2017 Noas ad Alcoa, appustisi della proposta di Gompora del suo stabilimento Alcoa presentata da Sideralui, subintotto di Vriar Giubassau e arrefutata del suo governo, buoneggi di uno scanto diretto su la multinazionale svizzera, si apposta tra Ballaivo a un'offerta nua di Gompora, sofferta da Deppinbiare per riposta elettronica certificata in tre lunisidregi del marzo. Per istanti però si appresenta un'altra società interessata a comporare il suo stabilimento di Portovesme e la società americana KPS ha già improntato a averiguarsi il stato dei simprantosi. L'ha fatto uscito il segretario generale del FIM, Cisla Marco Bentivoglio, insora dei uno congresso regionali dei metalmeccanicos in Tramazza. Mercato del sedilizia, previsioni di degrescimento posto mercato del sedilizia a questa banda dei fraigos in su 2017. I dati presentati a riservi della CNA, questa confederazione nazionale di questa artesana e di questa impresa media e pitica in Sardegna, certificano tra i primi due mesi del 2017, uno, manca il timorioso crescimento di questa banda. Non fu un certo numero si spantoso, però c'è una cosa si muove di commenti di Adessinao, Galileo Galilei. In particolare, a esse positivo, fonti bruschettotto e previsioni si possano isolare in corso. Si deni di incontro rispetto a su 2016, un aumento dei investimenti pubblici e privati, impruso di questo aumento e di rinnovazione e di ristrutturazione. Su crescimento di questa banda di edilizia, in trea di DPS di Bruso, 1,5% rispetto a su 2016. Numero di brusallebio rispetto a su 2016, che possiede l'izia e si stetio anno niedo. Aumenta su numero dei badantisi. Cresce su numero dei badantisi in Sardegna. Fonti già i 20.000 in pruso rispetto a su 2008, anno dei primi sinalisi di crisi economica, che in Sardegna andrà a burrao 35.000 posto del traballo. In sora di marito, figli e frati, si dante cabate in cascia e integrazioni e nuagate in preu, un esercito di Vemina sostenta la famiglia grazie al suo traballo dei badanti. Un traballo che si isola, che in si isola, avanti già i scetti Vemina Sardegna, in Tamisi, che in San Resto d'Italia, avrà un monopolio dei migrati. Mancai in Continenti Burrus, a padamaniao su numero dei collaboratori italiani. Sciacquadroggio di Genna Gorriga, in tre località di Caputacqua e di Genna Gorriga, accanto a Savrazioni dei Barbusi, in occasione della Fondazione di Carbonia, ha già avrai un sciacquadroggio, una struttura ristrutturata in su 2008, di una scantofondazione di Barisa su Comune di Carbonia. Su sciacquadroggio di Genna Gorriga, Caputacqua, scomente con notte, d'antivraggio consintento di burriare i brussimpli sul traballo dei messai a cittadinanza che, antes, si depianta a sciacquare questa roba in San Rio, vaina umida e traballosa. Oggi, a distanza di 77 anni, su sciacquadroggio è pieno di zinni che è a rua. Le immagini fuori da soli, se ammostano su degrado e su agudecorro di una struttura che ha fatto s'istoria di questa città, una struttura di chi i cittadini sono potenti gozai e per lo spago buro i turisti. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS